Nadia Tomola, come ha accolto il CIS questa importante donazione? Il CIS ha accolto con grande riconoscenza questa donazione. Infatti io voglio fare un ringraziamento alla Fondazione Carla del Ponte che ci ha consentito attraverso l'utilizzo di questo fondo presso la Fondazione Comunitaria di realizzare questo intervento. Siamo consapevoli del fatto che in questi momenti in cui il settore pubblico ha qualche difficoltà anche a portare avanti l'ordinario siano più che mai benvenuti interventi da parte di privati che ci consentono anche di realizzare più progetti.